Siamo in via Puccia all'interno di un contesto privato con un grande parco condominiale estremamente prestigioso. Ci accingiamo a vedere questo bel appartamento che viene affittato in contratto trasitorio e completamente arredato. Abbiamo l'ingresso, questa bellissima zona giorno con tre divani, il tavolo da pranzo che si affaccia su questo bel terrazzo abitabile con vista parco. Oggi sono le 10.20, come potete vedere è una splendida giornata, l'appartamento è luminosissimo e silenziosissimo perché dà tutto nel parco condominiale. Ritorniamo nella sala, lì c'è l'ingresso che non avevamo visto, poi andiamo di qui dove possiamo vedere una bella cucina abitabile dotata di tutti gli elettrodomestici servita di un ulteriore balcone. Qui sulla destra abbiamo un grande ripostiglio, questo è il corridoio, qui di nuovo l'ingresso così lo vedete anche da un'altra angolatura e andiamo a vedere il reparto notte che è composto da questa camera singola, molto bella, arredata completamente. eccoci, il bagno dotato di vasca con anche questo un bel balcone da cui si vede un piccolo scorcio di mare. Anche qui siamo sul parco condominiale, come vedete questo è il massimo rumore di questo appartamento, per cui è estremamente silenzioso. E qui abbiamo la camera da letto matrimoniale che dà in affaccio sul terrazzo che abbiamo visto prima della sala. Per cui ricapitoliamo, siamo in un costretto estremamente prestigioso. Abbiamo questo bel appartamento composto da un'ampia a sala, due camere da letto, il bagno, la cucina abitabile, la dispensa e tre belle balconate. E con la vista della sala qui terminiamo la nostra visita.